c'è qui cari amici dopo aver sbrigato qualche servizio matutino di oggi parliamo in questo video di pala canestro i risultati dalle squadre italiane di ieri in eurocappa allora abbiamo avuto due vittorie su due come anche martedì in ordine di orario prima trento che ha vinto in francia in casa del nander 71 a 65 la virtus bologna che ha vinto in casa dal mora bancandoro 82 a 66 quindi facciamo un riepilogo dei gironi delle squadre italiane allora va bene il gruppo a abbiamo venezia che ha quinto una vittoria una sconfitta nel gruppo b brescia una vittoria e una sconfitta nel gruppo c la virtus bologna è prima con tre vittorie su tre la prossima sfida sarà tra sette giorni in in casa con il sede video l'impio lupiano bene ci vediamo per i prossimi video saluti a tutti e ciao